Oggi è la celebrazione a Bergamo di un anno, un anno delle immagini forti appunto del Bergamo ma anche di tutta Italia, il suo pensiero. Dolore, diciamo quell'immagine dei camion militari che portano via le barre da Bergamo rimarrà ovviamente per sempre nei nostri occhi. Purtroppo oggi abbiamo 103.000 decessi, un numero che progressivamente si avvicina al numero dei decessi civili della Seconda Guerra Mondiale che furono 130.000. La vaccinazione è il mezzo per interrompere questo conteggio. Come commenta la decisione su AstraZeneca? Attesa è chiaramente positiva, si può ripartire con la campagna vaccinale in sicurezza. È chiaramente stato uno stop legato ad alcuni casi di tromboembolia che sono stati osservati ma il numero era estremamente esiguo. Da domani si riparte, lo ha detto anche il Presidente del Consiglio Draghi. Da domani si riparte, quindi gli obiettivi rimangono gli stessi, si recupereranno questi tre giorni che sono rimasti indietro e quindi si procede con la vaccinazione. È evidente che la comunicazione intorno ad AstraZeneca sia partita male fin da subito, fin da quando si parlava della metà dose anziché una dose intera e poi successivamente l'età, il limite d'età che fu messo per AstraZeneca, che magari fu messo sicuramente per la massima precauzione, però ha creato confusione, anche creando un doppio binario di vaccinazioni. Ora dobbiamo far recuperare la fiducia in questo vaccino. Molti mi chiedono, anche familiari, le persone che erano in lista per il vaccino, dicono ma tu lo faresti? Io direi sì, dico sì e anzi direi che se fosse disponibile la prima dose la farei senza saltare l'attesa o quanto altro, ma la farei da subito proprio per dare un segnale di sicurezza nei confronti di un vaccino che è sicuro ed efficace. Dobbiamo aspettare per Sputnik la utilizzazione dell'ente regolatorio. Sicuramente è un vaccino che funziona, è sicuramente efficace, è verosimente anche sicuro, ma dobbiamo aspettare l'ente regolatorio che dia l'ok e a quel punto benvenga, davvero benvenga Sputnik nell'armamentario contro il coronavirus. Entrambi questi comitati della Agenzia Europea del Farmaco hanno valutato che sulla scorta delle informazioni disponibili e che fanno riferimento a 20 milioni di persone che sono state vaccinate col vaccino AstraZeneca nel Regno Unito e nella Unione Europea, non ci sono evidenze che la vaccinazione incrementi il rischio di complicanze tromboemboliche. Sappiamo che dobbiamo probabilmente non solo riprendere quel numero di vaccinazioni al giorno, quindi eravamo arrivati a 200 mila al giorno, ma raddoppiare se possibile il ritmo, per cui è chiaro che questa revoca della sospensione del vaccino non può che renderci confidenti nel fatto che la campagna di vaccinazione a questo punto può entrare nel vivo, anche perché dopo si renderanno disponibili più vaccini. La pandemia che stiamo vivendo e la crisi economica e sociale che ha provocato è frutto dello squilibrio ambientale, ovvero di quel salto di specie tra virus, animale e uomo, ovvero nei processi di deforestazione. Ecco perché i fradi sprofugio che scendono oggi in piazza ricordano alla politica, da un lato l'ipocrisia delle certe scelte politiche e dall'altra la necessità e l'urgenza di dare risposte. Siamo davanti ai principali responsabili di come siamo ridotti oggi, al fatto che tutto in questo mondo è subordinato a una cosa, ai soldi e chi li ha può decidere tutto, anche decidere la vita e la morte di intere popolazioni, di interi paesi, di interi continenti. E io penso che è da nonno a questa parte che noi ci troviamo in una situazione di caos, da quando è iniziata la pandemia e la Covid-19. Non siete il futuro, siete l'unico presente che abbiamo. Io ho 82 anni, nessuna come la mia generazione ha talmente violentato questo pianeta. A questi ragazzi noi consegniamo un mondo malato.